Si potranno ottenere vissure catastali, certificate e volture presso il nuovo sportello del catastro inaugurato a Mondragone. È l'ufficio di via Sermentini aperto al pubblico il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e a disposizione anche dei cittadini dei comuni limitrofi, da Castelvortunno a Sesta Orunca. Uno dei primi esempi dunque di decentramento di attività finora perogativa dei capoluoghi di provincia. Come hanno ricordato all'inaugurazione il sindaco Alfredo Conti, il deputato Mario Landolfi, direttore regionale per l'Agenzia del Territorio, Marcello Agrusti. Decentramento flessibile con la possibilità di realizzare una parte delle attività nei singoli comuni e il resto negli uffici provinciali, in questo caso a Caserta. Lo sportello di Mondragone è stato realizzato nell'ambito del progetto del commissariato straordinario di governo per il federalismo amministrativo, reso possibile anche dall'informatizzazione dei dati catastali da parte di 1.600 lavoratori a tempo determinato, che dopo sei anni di impegno e chiedono ora certezze occupazionali.